ciao a tutti ci si vede anche stanotte mettiamo un po più di luce per parlare anche stasera di un importante film o comunque un film del passato che mi è molto caro e che voglio trasmettere anche a voi nella speranza che magari lo guardiate visto che stavolta tra l'altro si tratta di un film che è nel public domain cioè di dominio pubblico e quindi è completamente disponibile su youtube in inglese con i sottotitoli il film di stasera di cui voglio parlare è un capolavoro assoluto nonostante sia abbastanza sconosciuto ai più diciamo i più cinefili lo conosceranno il film è the tour di edgar ulmer un regista tedesco passato a hollywood che è stato aiuto di murnau in germania e che poi a hollywood ha fatto una serie di film di vario genere di avventura drammatici eccetera e questo è the tour in italiano identificato come the tour deviazione per l'inferno in realtà di infernale c'è ben poco è un classico film noir veramente molto classico ma nello stesso tempo totalmente originale anche perché è veramente un b movie un film che i critici americani hanno sempre definito come un film povero di mezzi diciamo il classico film girato in sei giorni con un'idea molto semplice ma molto efficace in pratica di che cosa parla questo film the tour parla di un personaggio diciamo un pianista di un locale un pianista jazz innamorato di una cantante jazz già questi sono diciamo due personaggi tipicamente da film noir chiaramente tutta l'atmosfera è molto triste molto cupa molto senza speranza il film ha un bianco e nero molto contrastato e diciamo lei se ne va loro stanno a new york lei va via e se ne va a los angeles a cercare fortuna migliore come cantante a un certo punto lui decide di seguirla ma essendo senza soldi decide di fare l'autostop da new york fino a los angeles nel fare l'autostop questo personaggio cosa viene preso su diciamo da un misterioso uomo che gli dice ok vieni ti porto tranquillamente fino a los angeles perché tanto devo andare lì per una scommessa un giro di scommesse aiutami solo a guidare intanto questo uomo si fa dare una serie di pastiglie che lui deve cercare nel nel cruscotto e probabilmente non sono medicinali non lo possiamo sapere a un certo punto durante una scena inquietante di tempesta di pioggia eccetera in cui praticamente lui aveva detto ok guido io tu dormi un po scende dalla macchina il protagonista cerca di svegliare il proprietario della macchina apre la portiera ma questo cade batte la testa e muore non si sa era già morto prima non si sa è tutto molto onirico è tutto molto soffocante molto kafkiano ovviamente il protagonista che cosa fa come nel più classico dei film noir rimane agghiacciato e pensa ok adesso che cosa faccio non ci crederanno mai che questo non l'ho ucciso io rubo la sua identità rubo il suo portafoglio prendo i suoi soldi prendo la sua macchina e mi spaccio per lui e quindi continua a guidare verso los angeles con la macchina che cosa succede per un certo punto colpo di scena come dal più classico dei film noir incontra una ragazza che a sua volta fa l'autostop bisogna sapere che il proprietario della macchina quello che è morto aveva le mani tutte graffiate e lui a un certo punto il protagonista gli chiede ma perché questi graffi sulle mani ho preso su una ragazza in in florida ci ho provato con lei ma si è ribellato e mi ha graffiato e quindi l'ho fatta scendere ovviamente questa ragazza è proprio la ragazza che anche lui prende su e quindi lei comincia in sospettirsi gli dice ma tu sei veramente il proprietario di questa macchina perché ha riconosciuto la macchina insomma alla fine viene fuori la cosa che lui ha lasciato in un fosso il cadavere del proprietario della macchina e quindi lei comincia a ricattarlo guarda che dico alla polizia che hai lasciato un cadavere dietro di te e anche questa è una classica situazione da film noir lei è una classica dark lady ve la faccio vedere magari nel trailer è veramente peccattiva cioè ha veramente un emana antipatia da tutti i pori questo poveraccio quindi deve sottostare al ricatto che lei gli fa oltretutto vengono a sapere che il padre del proprietario della macchina tale haskell è un milionario che sta per morire vorrebbe tanto tanto lasciare l'eredità proprio al figlio che non vedo da tanto tempo e lei gli dice spacciati per per questo per il figlio di questo haskell visto che comunque hai la sua macchina e la sua carta d'identità spacciamoci per il figlio del milionario e sua moglie e prendiamo tutte le eredità ovviamente lui non lo vuole fare un po' perché ha delle remore un po' perché pensa io mica so tutto della vita di questo qua e succederà un evento tragico che non voglio spoilerare ma che comunque fa diciamo porta il film ancora più verso un abisso di colpa perdizione e angoscia tipica di film dei film noir dell'epoca ovviamente detour non è diciamo curato e come dire famoso giustamente come non so come può essere la fiamma del peccato di billy wilder o viale del tramonto per dire sempre di billy wilder che comunque è noto per essere un grande regista di commedia ma ha fatto tantissimi film noir anche o appunto i più classici conosciuti da tutti il terzo uomo di carol reed con con joseph cotton e orson wells orson wells che anche lui aveva praticato come regista del genere pur diciamo stiracchiandolo un po magari nei film come l'infernale queenland per esempio e poi tutti i classiconi con un free bogart il mistero del falco il grande sonno eccetera eccetera allora questi sono i canoni del film noir detour è un pochettino meno conosciuto ma è maggiormente nel mio cuore proprio per un'atmosfera assolutamente kafkiana e poi anche per il modo in cui è girato ulmer ha sempre detto ho girato questo film in sei giorni poi in realtà pare che non sia vero magari possono essere dieci ma comunque pochissimi giorni con attori sconosciuti sulle strade praticamente ha montato per mancanza di girato ha montato pezzi di strade in modo ricorsivo e talmente sempre diverso cioè ribaltando orizzontalmente l'immagine quindi rendendola speculare in modo tale che un americano un po sgamato che guarda sto film pensa ma questo sembra andare avanti e indietro per tutta la l'america c'è la fascia diciamo della route 66 invece che procedere diciamo da da new york a los angeles dritto no perché comunque ci sono delle delle deviazioni dei detour veramente macroscopici all'occhio di chi conosce le strade vediamo un attimo il trailer così vi rendete conto dell'atmosfera ecco la cantante la sua fidanzata se ne va a los angeles e lui cerca di raggiungerla e questa è vera la dark lady ricordati chi è il capo qui il capo e lei ecco qui sotto la pioggia il protagonista che trascina via il cadavere del signor haskell tom neill e han savage due attori non molto conosciuti edgar ulmer come abbiamo detto tedesco che è migrato in america il cui film più famoso probabilmente è questo che quando è uscito il film è del 1945 quindi immediatamente dopo la guerra quando è uscito questo film non è stato un granché considerato perché appunto era considerato un prodotto povero diciamo un prodotto per il cinema di serie b drive in di seconda visione no i drive in i cosiddetti grind house però pian piano questo film è cresciuto negli anni 70 ha guadagnato un sacco di popolarità peter bogdanovich martin scorsese lo hanno diciamo tenuto su un piedistallo come uno dei film maggiormente da studiare della storia del cinema e si vede sicuramente che in particolare scorsese ha studiato detture le sue atmosfere per quelli che sono stati suoi grandissimi noir urbani dei primi anni 70 che cos'altro vi posso dire su detur la scena finale che non vi voglio svelare è un classico diciamo un classico epilogo da film noir dove praticamente tutto tutto cade la sfiga praticamente clamorosa cade sulle spalle di questo protagonista che se vogliamo parte come un uomo innocente ma si immerge sempre di più in una spirale di colpa anche non sua anche accidentale ma che alla fine praticamente lo sovrasta e lo schiaccia e una curiosità che a me ha sempre fatto morire è che al tempo di detour quindi negli anni 40 insomma era in vigore un codice hollywoodiano che si chiama il codice heist che poi solo all'inizio se non sbaglio degli anni 60 è stato un po' abbandonato dalla hollywood classica e questo codice heist tra le altre cose imponeva che non si potessero assolutamente o ciao a tutti intanto e vedo che vi state collegando ma questo codice heist imponeva sostanzialmente che non si potessero vedere troppe parti del corpo femminile scoperte ad esempio ovviamente niente capezzoli niente coscia al di sopra del ginocchio un po' come i social oggi un po' come su instagram sono vietati i capezzoli anche nel codice heist degli anni 40 erano vietati i capezzoli ma non solo ovviamente era vietato mostrare mostrare atti di violenza estrema o cadaveri persone morte infatti ecco ovviamente un film come detour se lo vediamo oggi cioè le morti che avvengono in detour sono non non tanto insistite come quelle dei film che vediamo oggi ma peraltro neanche per esempio possiamo fare il paragone anche con un capolavoro come il psycho di hitchcock ovviamente la morte di genet league sotto la doccia molto mostrata per quanto con un montaggio estremamente veloce e sincopato e con tantissime inquadrature ecco in detour non vediamo queste cose però e qui ve lo devo dire battetemi un colpo se posso fare questo spoiler tanto voglio dire il bello del film in questo caso non è tanto la storia quanto il modo in cui viene raccontata lo spoiler sarebbe diciamo la morte che avviene sul finale del film ok non diciamo chi non diciamo cosa però questa morte viene mostrata in un modo fantastico cioè quando il protagonista si accorge che questa persona è morta viene praticamente inquadrata viene inquadrato il cadavere con dei dettagli sulle spalle sul testa sulle mani continuamente sfocando e rimettendo a fuoco sfocando e rimettendo a fuoco quindi i tagli di montaggio sono sulla sfocatura cioè un modo veramente interessante veramente particolare di rappresentare l'angoscia della persona che vede un cadavere e dice oddio questo ricade sulle mie spalle e poi un'altra cosa fantastica del codice ace appunto che ho scoperto proprio facendo delle ricerche per parlarvi di questo film e che il codice ace prevedeva che se c'è in un film una persona che ha commesso un crimine non si può in assoluto permettere che questa persona la faccia franca nella storia e siccome detour è un noir kafkiano surreale anche molto onirico che viene raccontato come spesso succede nei noir esempio classico viale del tramonto di billy wilder in viale del tramonto il protagonista lo vediamo subito morto però la sua voce fuori campo racconta la sua storia ecco anche in detour non è che il protagonista sia morto però per tutto il film abbiamo la classica voce fuori campo è un topos narrativo del film noir che viene ripreso anche dai neo noir come per esempio mi viene in mente l'uomo che non c'era dei fratelli cohen con billy bob tonton che comunque ha una voce fuori campo molto insistente oltre ad essere tra l'altro il film che mi ha fatto scoprire quel gran pezzo di scarlett johansson che in quel film è veramente clamorosa ho fatto la mia solita parentesi il mio solito detour e quello che volevo dirvi è che appunto si riprendo il filo del discorso da dove ero rimasto non si poteva mostrare un personaggio che commettesse un crimine senza che poi questo crimine venisse in qualche modo sanzionato e infatti ulmer che cosa fa nell'ultimissima inquadratura del film fa arrivare una macchina della polizia che praticamente il protagonista sale su questa macchina della polizia the end fine titoli ciao e il film si conclude così spero che lo guardiate perché ribadisco come ho detto all'inizio lo trovate e nel pubblico dominio quindi lo trovate tranquillamente su youtube basta che cercate detour film completo e si trova in inglese con i sottotitoli inglesi però veramente una visione che vi consiglio ecco anche se volete passare un'oretta e mezza un po particolare un po in atmosfere che secondo me peraltro sono un altro un altro regista ho citato scorsese prima ma un altro regista che sicuramente si è studiato detour inquadratura per inquadratura e david lynch perché strade perdute è un po una variazione sul tema se vogliamo con in più marilyn manson adesso che dirvi tornerò alla mia clausura vi auguro a tutti di avere buoni giorni di quarantena noi qui stiamo resistendo come spero facciate anche voi incrociamo le dita e ci sentiamo prossimamente con qualche altro film ciao a tutti ciao a tutti